Capitolo 8. Mosche e ragni. Camminavano in fila indiana. L'avvio del sentiero era una specie di arcata che portava a una tetra galleria fatta da due grandi alberi che convergevano, ormai troppo vecchi e strangolati dall'edra e ricoperti di richeni per poter reggere più di poche foglie enrite. Il sentiero era stretto e serpeggiava in mezzo ai tronchi. Ben presto la luce dell'ingresso fu come un piccolo foro luminoso molto lontano. Il silenzio era così profondo che i loro passi sembravano risuonare sordi sul terreno e tutti gli alberi piegarsi sopra di loro per ascoltare. Quando gli occhi si furono abituati alla penombra riuscirono a vedere per un certo tratto due lati del sentiero attraverso una sorta di chiarore verde scuro. Di tanto in tanto un esile raggio di sole che aveva la fortuna di infiltrarsi dove le foglie erano più rade lassù in alto e la fortuna ancor più grande di non venire imprigionato dai grossi rami aggrovigliati e dai ramoscelli avviluppati più in basso. Trafiggeva l'oscurità spiovendo esile e vivido. Ma questo accadeva di rado e presto cessò del tutto. C'erano degli scogliattoli neri nel bosco. Appena gli occhi acuti e penetranti di Bilbo si abituarono a vedere le cose egli riuscì a cogliere la loro velocissima apparizione mentre se la svegnavano dal sentiero e correvano a nascondersi dietro i tronchi degli alberi. C'erano anche strani rumori grugniti calpestii tramestii frettolosi nel sottobosco e tra le foglie che senza fine giacevano ammocchiate e fitte sul suolo della foresta. Ma cosa provocasse quei rumori Bilbo non riusciva a vederlo. Le cose più brutte che si lasciavano vedere erano le ragnatele. Ragnatele scure e spesse dei fili straordinariamente robusti spesso tese da un albero all'altro o aggrovigliate sui rami più bassi e elati del sentiero. Nessuna era tesa proprio attraverso il sentiero ma era impossibile dire se esso fosse sgombro per chissà quale magia o per qualche altro motivo. Non ci volle molto perché cominciassero a odiare la foresta con tutto il cuore così come avevano odiato le gallerie degli orchi tanto più che essa non sembrava offrire maggiori speranze di avere fine ma dovevano continuare ad andare avanti anche quando cominciarono a sentirsi male per il desiderio di vedere il sole e il cielo e ad allenare la crezza del vento sul viso. Sotto il tetto della foresta non un fremito d'aria, eternamente immobile, scura e soffocante. Ne risentivano perfino i nani che pure erano abituati a scavare gallerie e talvolta restavano a lungo senza luce del sole ma lo hobbit cui i buchi piacevano per farci una casa e non come posti per passarci le giornate estive sentiva di star lentamente soffocando. Di notte era anche peggio calava un buio pesto non il solito buio pesto ma proprio come la pece così nero che non si poteva vedere niente di niente Bilbo provava ad agitare la mano davanti al naso ma non riusciva a vederla affatto. Forse però non è esatto dire che non riuscisse a vedere nulla. Riusciva a vedere degli occhi. Dormivano tutti insieme stretti l'un l'altro. Facevano la guardia a turno e Bilbo quando era il suo turno vedeva nell'oscurità attorno all'or dei luccichi e talvolta un paio di occhi gialli o rossi o verdi che lo fissavano a breve distanza. Poi lentamente svanivano e lentamente tornavano a scintillare poco più in là e talvolta brillavano rivolti in giù proprio dai rami che sovrastavano. Ma gli occhi che meno gli piacevano erano quelli sporgenti e pallidi. Un tipo di occhi davvero orribile. Non sono occhi di animale pensava semmai di insetto anche se di gran lunga troppo grandi. Benché non facesse ancora freddo di notte provarono ad accendere dei fuochi. Ma ben presto vi rinunciarono. Sembrava che attirassero centinaia e centinaia di occhi tutti intorno a loro sebbene quegli esseri qualunque cosa fossero vadassero a non mostrare i loro corpi alla luce tremolante delle fiamme. Ma quel che è peggio attiravano migliaia di falene grigio scure e nere. Alcune grandi quasi come una mano che sbattevano le ali e frullavano intorno alle loro orecchie. Non riuscivano a sopportarle così come non sopportavano i grossi pipistrelli neri come cappelli a cilindro sicché rinunciarono ai fuochi di notte e dormichiavano seduti in quell'oscurità misteriosa ed enorme. Andò avanti così per un periodo che allo Hobbit sembrò durare all'infinito. Tra l'altro aveva sempre più fame perché erano molto cauti con le provviste. Con il passare dei giorni e la foresta che pareva sempre più identica cominciarono a preoccuparsi. Il cibo non sarebbe durato per sempre. In realtà già cominciava a scarseggiare. Cercarono di tirare agli scogliattoli e persero molte frecce prima di riuscire ad abbatterne uno solo. Ma quando lo arrostirono risultò orrendo al palato e smisero di cacciarne. Avevano anche sete perché nessuno aveva molta acqua e per tutto quel tempo non avevano visto né una fonte né un ruscello. Era questo il loro stato quando un giorno trovarono il sentiero interrotto da un corso d'acqua. Scorreva veloce e turbinoso ma non era molto largo. Era nero o tale appariva nella penombra. Per fortuna Beorn li aveva messi in guardia altrimenti ne avrebbero bevuto l'acqua. Qualunque fosse stato il suo colore e dalla riva avrebbero riempito qualche otre vuoto. Stando così le cose pensarono solo a come attraversarlo senza bagnarsi. Un tempo c'era stato un ponte di legno ma ora marcito era caduto lasciando solo pali rotti vicino alle sponde. Bilbo inginocchiato sulla riva e scrutando avanti esclamò. C'è una barca attraccata alla riva. Che disdetta che non sia da questa parte. Quanto pensi che sia lontana? domandò Thorin poiché ormai sapevano che tra loro era Bilbo ad avere la vista più acuta. Non è lontana per niente. Direi non più di dieci metri. Dieci metri? Avrei detto almeno trenta. Ma i miei occhi non vedono più bene come un centinaio di anni fa. Tuttavia dieci metri sono come un miglio. Non possiamo attraversare con un salto. Ne conviene tentare di passare un guado a nuoto. qualcuno di voi sa lanciare una corda. E a che scopo? La barca sarà senz'altro legata. Anche se riuscissimo ad agganciarla. Cosa di cui dubito. Non credo sia legata. Disse Bilbo. Anche se ovviamente non posso esserne sicuro con questa luce. Ma mi pare solo tirata in secco sulla riva. Che è proprio lì dove il sentiero scende in acqua. È bassa. Dory è il più forte. Ma Philly è il più giovane. E ha ancora la vista buona. Disse Thorin. Vieni qui Philly. E guarda se riesci a vedere la barca di cui parla il signor Beckins. A Philly parve di sì. Perciò quando l'ebbe osservata a lungo per farsi un'idea della direzione. Gli altri gli portarono una corda. Ne avevano molte con sé. All'estremità della più lunga assicurarono uno dei grossi uncini di ferro che avevano usato per fissare i pacchi e le cinghie girate attorno alle loro spalle. Philly la prese in mano. La bilanciò per un momento. E poi la lanciò attraverso il torrente. E la corda cadde in acqua tra mille spruzzi. È troppo corto. Disse Bilbo che scrutava davanti a sé. Un altro mezzo metro e l'avresti calata sulla barca. Prova ancora. Non credo che l'incantesimo sia tanto forte da farti del male. Se ti limiti a toccare un pezzetto di corda bagnata. Philly prese in mano l'uncino dopo averlo tirato a sé. Non senza una certa esitazione. Questa volta lo lanciò con maggior forza. Piano! Disse Bilbo. Adesso l'hai lanciata diritta nel bosco. Richiamala pian piano. Philly trasse la corda con cautela. E dopo un po' Bilbo disse. Attento! Sta proprio sopra la barca. Speriamo che l'uncino faccia presa. E così fu. La corda si tese. E Philly la tirò. In vano. Chilly venne in suo aiuto. E poi Oin e Gloin continuarono a dare strattori e improvvisamente caddero tutti sulla schiena. Ma Bilbo stava in guardia. Afferrò la corda e con un pezzo di bastone frenò la barchetta nera che arrivava a gran velocità attraverso il torrente. Ah! Aiuto! gridò. E Balin fece appena in tempo a fermare la barca prima che se ne andasse via con la corrente. Ah! Quanto pare era legata! Disse. Guardando la cima spezzata che penzolava dalla poppa. Avete tirato proprio bene ragazzi. E meno male che la nostra corda era più robusta. Chi attraversa per primo? Domandò Bilbo. Io! Disse Thorin. E tu verrai con me. Insieme a Philly e Balin. La barca non reggerebbe più di quattro per volta. Dopo di noi. Kili, Oin, Gloin e Dori. Poi Orinori, Bifur, Bofur. E per ultimi Dualin e Bombur. Sono sempre ultimo e non mi piace per Ghegge. Disse Bombur. Oggi tocca a qualcun altro. Non dovresti essere così grasso. Visto che lo sei farai parte dell'ultimo carico che è anche il più leggero. Non cominciare a brontolare e a discutere. O ti capiterà qualcosa di brutto. Non ci sono i reni. Come farete a riportare la barca dall'altra riva? Domandò lo Hobbit.